L'immagine e la parola e sul duplice aspetto del lavoro dell'artista Dora Bassi che si basa l'idea della mostra a lei dedicata allestita fino al 27 novembre alla Galleria d'Arte Contemporanea Luigi Spazzapandi Gradisca di Sonzo. È un omaggio legato al centenario della nascita in cui abbiamo voluto dare per suggestioni, illusioni, spunti di riflessione sul suo lungo iter artistico. Promossa e organizzata da ERPAC Friuli Venezia Giulia con la collaborazione del Comune di Gradisca e la Fondazione Carigò, la mostra è un omaggio a un artista di ricerca, testimone e protagonista dell'arte del Novecento, antesignana di una professione che poche donne avevano intrapreso soprattutto nell'Italia degli anni Cinquanta. Il fulcro della mostra è proprio questa sala, immagine e parole, ha preso in considerazione delle opere di Dora Bassi realizzate tra la metà degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta, che è un periodo dove lei era ancora a Milano, insegnava scultura all'Accademia di Brera e nello stesso tempo aveva iniziato a scrivere.